E ora fichi fichi Ora fichi fichi Vi facciamo fare una figlia mulatta Verrà con i capelli Verrà nera e con i capelli rossi O rossa con i capelli neri No Ok, in vendita No, io voglio un terreno vuoto Tenuta Cazzicato ci prendiamo In vendita costa troppo Quanti soldi c'ho io? Non so Perché non lo vedo quanti soldi ho? Certo che se ogni cosa Devo aspettare 8 ore Vabbè Prendiamo Prendi una tenda Caffetteria, market Per forza qua, dai Prendiamo acqua, dai Ad angolo Tanto quella è un anforo Abituata a vivere negli Strada della baia Poveri affi Strada Ah Via delle bestemmie Via delle Bestemmie Via le dita dal naso Non è dal culo? Vai Olè Finalmente abbiamo fatto la casetta A tan? Sì Voglio vederla anche io Mi l'ho rotto il cazzo di stare dietro a fare Puoi modificare ogni cagata Puoi modificare il personaggio Ci puoi passare 8 giorni a fare il personaggio No, fighi, fighi Ma fighi, fighi ci vuole il tempo, cazzo Uffa The Sims Mansion Abba, babba Ti dal benvenuto Vuoi attivare i consigli del gioco Ti faranno Sia Ti diamo consigli Ora i tuoi sims possono Venere ogni cattore Non mi rompere il cazzo Già giocato all'uno Ora pregoglioni Come si disattivano gli aiuti? Non lo so Ti attivo aiuti Via Vale Adesso sono in pausa Ah, questa qua è la mia orribile casa Che c'è? Una cucina marcia Una sala Senza manco la tv Cazzo si guardano? Guardano negli occhi? No, vanno tutti i tigli Vanno tutti i tigli Vabbè Ehm Avvia No Vedete lo che stemia Blah 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 Come cazzo è così? Voglio avviare il gioco Avvia No, ci trovo Piano Cazzo devo fare? Allora Modalità costruisci Avvicendarsi delle stagioni Blah 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 Coltivare qualcosa Ah, posso coltivare Blah 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 Ok, sì Quindi posso farmi una serra? Muro Porta e finestre Garage Posso fare atterraggio per gli elicotteri? Wow Cazzo è questa roba qua Design Visual 45 grad Orcatron Cazzo ho fatto? Ok Fondamenta e piattaforme Oddio mio Qua è un bordello più complicato dell'1 Devo essere sincero Muro Oh, bene Grandiamo un po' se a casa Dei puffi Porta miseria Eh, lei Ho fatto un muro Ho fatto un muro Ho fatto una stanza nuova Poi No, faccio una cazza di sala Come si deve Altro che balle Muro in mezza altezza No Porta e finestre Come cazzo l'ha fatta? Finestre di degno Tanto al mucchio Ma voglio le finestre Tutte porte Questa è una finestra e una porta No, qua dobbiamo andare a finestre Ecco Bene Tre finestre Poi Ho il divano qui Qui ho la libreria Sotto volino marcio Mettiamo qui Poi facciamo La porta qui Sì Sì, voglio vedere tutto però Non puoi vedere Come cazzo faccio vedere tutto qua? Madonna Che cosa fastidiosa Che cosa fastidiosa? Che cosa fastidiosa? Ah, ecco perché mi faceva fare la porta C'è un cazzo di quadro tra i coglioni Allora Via Ok Poi Porta ok poi il pavimento facciamo il parquet? si perché no il perché però mi sa che non c'ho più cash ma va bene così va benissimo no è ora come faccio adesso ad avviare il gioco? ah lo trasferisci come c'è la trasferisca la famiglia? si ti faccio la fotografia vieni qua commerciale no si ma io ci voglio venire a abitare qui quartiere vuoi salvare? si torniamo a quartiere bella donna minchia non ci capisco un cazzo se è un gioco di merda come cazzo fa la gente piacere? boh boh giusto le donne vuoi piacere stai schifo e infatti guarda chi ci sta giocando io non lo posso scaricare vuoi trasferire? oh ecco così funziona oh finalmente trasferire la famiglia ti è riuscito ad installare origin te? no niente non me lo fa non me lo fa te me lo installa però poi non me lo fa avviare che ti dà? mi dà sempre l'errore del marginale 495 disinstalla riavvia rinstalla eh non c'ho fatto 4 volte cancella anche le cartelle non lo voglio cancellare si dal download no? cosa? devo toglierla anche dal download? no con lì di fare l'eseguibile è l'unica cosa che devi lasciare adesso cosa devo fare? beh oramai lo cancellate vabbè tu lo riscari disinstalla dopo andare il controllo quale in C program file cancella la cartella di elettronica lì orici cazzo in trattiero si fermati si fermati no mia voce si ferma si ferma mi ferma osserva gli uccelli adesso dobbiamo capire qua gli uccelli va a osservare blower blower gioca no cazzo io ero pericodio ah scegliamo lui invece c'è oh n***a dai entra in casa schiaccia un pisolino no anzi no vai a fare fighi fighi cosa qua entrati scattami una foto ah bello questi errori delle ombre c'è il gatto che si sta già incazzando che cazzo che cazzo è successo sento il gatto incazzato che sta picchiando con qualcosa ma non capisco qualcosa c'è anche altra tabato il gioco corpus corpus adesso aspetta due disattivarsi i cazzo suggerimenti che ammazza qualcuno se no scorri i margini si no continua come si tolgo i suggerimenti del cazzo libero arbitrio buh vabbè oh oh sto rompendo il cestino eh eh insegna ordine obbedisci oh 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 guardala vedete chissati con cazzo di ombre che madonna ombre medio applica ok madonna 8 ore di volta che cazzo di bug ah ombre però non me lo fa portare ombre veloce picchi al gatto oh madonna guarda lì cosa c'è il tuo gatto? c'ha fame? oh cuciam se fai la cuciam oggi è buo di me si esprimi affetto si esprimi affetto abbraccia abbracciamo il gatto di una cosa che ci dice se ci graffia per me woofum woofum keep movers che cazzo stanno facendo? ma abbraccia che cazzo stanno facendo? non abbraccia, mi devi apri il culo chi sei te? gloomum tibi locca cosa mi ha suonato oh mi ha portato un regalo vediamo un po' apri vediamo che cazzo di regalo mi ha portato vediamo che cazzo di regalo mi ha portato salve mi chiamo porca troppa roba mi chiamo Mr. Humble ma Humble Bundle e sono qui per omaggiarla con un bel dono immagino il dono l'ha portato la tipa rossa non vedete sai cosa smetti di guardare uccelli? basta che cazzo ha preso cazzo di pacco puttana puttana dai capelli rossi va parapapam tu invece di rompere il cazzo del gatto anche questo non ci ha preso il giornale ciao sono un membro del club giardinaggio farti visita per raccontarti che cazzo voi spiegate di merda becche del cazzo ci fida nella fossa che cazzo vuoi? guarda lì come cazzo suoi? una volta suoi la stronza vieni qua saluta saluta Melissa Zapotec come si velocizza quella cosa su un'avanti su un'indietro saluta eh ti piace il cazzone negro eh? brutta puttana tu invece rossi ignorante vetti a leggere un po' il giornale ecco bravo cerca un lavoro vada squatterà guarda quel cazzo d'ora sta cagando c'è un tavolo perché lo devi metterlo per dare il giornale nel cazzo? questo è proprio il chioca eh? è un simp il gatto sta il gatto che sta accettalo ah è disponibile un impiego nella carriera di istruzione come sorvegliante di campo giochi accetta che tanto non troverai di meglio puttana ah lei vai a lavorare poi le sette zoccola ma lei deve stare in cucina a fare i panini a fare del ben altro deve stare in cucina quella lì porca puttana fai il cuciverbo piuttosto che impari un po' qualcosa capra tu negro scaccia chiamata non si dice negro adesso la faccio flintare con la vecchia fisco di ammirazione dai 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 bravo nigga dai fagli un fisco di ammirazione vai invece di fare i panini oh c'è un titolo che è contenta ma re sa troiona Sì! Sì! Gioco al gatto! Lancia in aria! Aspetta che lancia in aria il gatto! La rossa dove è andata al cesso? Sì! Poi ora provo con buffi a lanciare in... Ora è sims possibendo dei punti influenza che possiamo utilizzare per convincere gli altri sims Ma che tutta la gente deve ropermi il cazzo? Ma chi mi vuole? Voglio farmi il cazzo tutto qua per starmi per cazzi miei C'è il mio cognome, dovrebbe farvi capire che... Saluta Azzurra Cordiali Saluta Gabriele Imparato Questo deve essere del sud, questo Gabriele Imparato Un terreno del cazzo deve essere Perchè non è nato insegnato, è nato imparato Ovviamente Saluta Carlos Contender Che madina! Un rogato che una cosa si incazza Sì 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 Anche tu negro, cerca tu un lavoro Ce abbiamo un telefono qua Vengo Mi serve un'opzione per aumentare la velocità di... ...D..D..D..D...D..D..Scrolling ma non c'è quanto fare Vabbè Il mondo sì Oh no Eccasinsetti no? Eccasinsetti sfigato Chiamo da te, flirta, irrita, parla di, abbraccia Sì, arrivo, Gabriele imparato Madonna che stress Ci cazzi sterroni Oh Gabriele non è imparato oggi Ah, non prego nella gente eh? Tostruo Uuuuh Ah Come se vuoi imparare, vado Ah Oh 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 Bisogna fare un pavimento in camera Come compra, no, costruisci Il pavimento, non ho fatto il pavimento nel tetto e in sala Il pavimento come lo faccio? Legno Questo è un ricone Ok E il tetto come me lo faccio ora invece? Il tetto Va bene così Sì, non lo accetto qua. Fatto? Ok, io di sotto. C'è però anche una lucetta qua. Allora, prendiamo lampadaria per la cucina. Ordina per stanza. No. Luci. No. Come cazzo è che la libreria si è girata? Ma perca puttana. No, mi serve una cosa da muro. Oh, eccolo qua. Lo ci mettiamo. Oh, c'è anche la pallina che ruota. No, beh, ci mettiamo una seconda dei barboni. Mettiamo, no, questa qua non mi piace un cazzo. Ho capito, mettiamo la picca muro. Perché siamo dei francesi n***a. Dove cazzo l'ho messa fuori casa? Ma puttana troia. Cambiuto. Ah, devo mettere ancora la carta da parati. Allora, verniciamola. No, devo verniciare. Martello. Oh, vernice. Rivestimenti. Versa. Vernice. Colore la facciamo la sala. no cos'è? no no, fa schifo al cazzo quasi no, dove cazzo? ma no, anche fuori ma so perfetto fuori invece ma quello che mi ha messo fuori ora fa schifo al cazzo rivestimenti cazzo la sarobaccia che cazzo? mattonella pannelle varie per vince mattone, bene, mattone ah, bello tamarui ah, come mi piace ah, le c'ho un gusto estetico io che ah, sì? dici di no? sicuramente è meglio di quelli che hanno fatto The Sims che hanno fatto una cara di merda ah, le Perfetto Devo fare ancora una porta qui Però questa porta qua mi fa schifo al cazzo E ci voglio mettere Questa no No Bella questa porta qua è seria No No Va via la cazzo Ah che palle Anzi con la porta lì quasi quasi allevo dei coglioni E ci mettiamo la tv Computer tv No 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 Cazzo è vero Ok non c'ho più una lira Quindi brutto n***a Vate a cercare un lavoro Sei con la stronza che ti ho messo al giornale Ora qua No 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 Grazie a tutti